Siete fino a quando non siete qui Luigi Russo, vincitore dei cortometraggi Ed eccoli, eccoli Siete... Siete tanti Ottimo lavoro ragazzi, in tre giorni ottimo lavoro Facciamo rivedere l'entusiasmo di prima Allora ragazzi, adesso naturalmente noi ci vediamo La proiezione del corto vincitore Siete tanti, un rappresentante che possa parlare a nome di tutti Un intervento, prego Salve a tutti, buonasera Chiedo scusa, sono davvero emozionato Abbiamo fatto quest'urlo di liberazione perché sono stati tre giorni davvero difficili Per le emozioni che abbiamo provato, nei momenti di difficoltà Però siamo stati una squadra noi e ce l'abbiamo fatta Grazie a tutti Grazie a tutti